Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Cominciamo subito con due nuovi episodi di My Home My Destiny. Anticipazioni delle puntate del 16 e 17 ottobre dove vedremo Zeynep che mette le cose in chiaro con Magdy, perché continua a pedinarla e ritrovare suo padre che le creerà ancora problemi. Magdy si trovava di fronte all'hotel dove Zeynep e Baris avevano stabilito un appuntamento segreto. Anche se notava Byram nelle condizioni più miserabili. Mendicare per strada? Il suo desiderio di scoprire cosa stesse facendo sua ex moglie in compagnia del suo capo lo spingeva ad avvicinarsi. Tuttavia, i sospetti di Magdy su una possibile relazione tra Zeynep e Baris si rivelarono infondati. Infatti, li sorprese nella hall mentre stavano incontrando alcuni clienti per siglare un importante accordo. Una volta appurata la verità, Magdy uscì dall'hotel e raggiunse Byram. Non si scambiarono parole, ma Magdy posò una mano sulla spalla di Byram, segno del suo desiderio di aiutarlo. Nel frattempo, a casa di Zeynep, Sultan, Emine e Sakine erano in un clima di gioia e soddisfazione per aver completato tutte le preparazioni per il matrimonio serale. Tuttavia, l'entusiasmo svanì quando Emine ricevette una chiamata dall'organizzatrice del matrimonio, che le comunicò che il matrimonio era stato annullato, rendendo vano il loro duro lavoro. Con i soldi spesi per il cibo e gli utensili da cucina, le donne entrarono in panico, realizzando che non sarebbero state pagate. Non rimaneva loro altra scelta se non donare il cibo in beneficenza ai residenti del quartiere per evitare sprechi. Nel frattempo, Zeynep e Baris erano insieme in macchina, felici per l'esito positivo del loro incontro del mattino. Tuttavia, Zeynep fu sconvolta quando venne avvisata dell'arrivo di suo padre, Bayram. Baris insistette per accompagnarla, e lei accettò con riluttanza. Nello stesso momento, Buran, nascosto vicino alla casa di Magdi, stava sorvegliando la dimora, aspettando l'arrivo di Musgan. Fu raggiunto da un suo complice, il quale gli consegnò una pistola, suggerendo un uso potenzialmente pericoloso ed illegale. All'arrivo a casa, Baris e Zeynep trovarono Magdi, il quale li accolse con uno sguardo ostile e fermò Zeynep sulla soglia per informarla delle precarie condizioni di suo padre, Bayram. Zeynep rimase sconvolta nel vedere suo padre sporco e delirante sul divano. Gli offrì subito assistenza medica, ma Bayram, nonostante lo stato confusionale, l'aggredì verbalmente, rimproverandole il ricordo dell'umiliazione subita in ospedale. In quel momento, Magdi venne brutalmente aggredito da alcuni criminali, ai quali Bayram era in qualche modo legato. Sakine cercò di calmare suo marito, ma fu criticata da Nermin, che temeva che Bayram fosse solo un problema per tutte loro. Le preoccupazioni di Nermin si dimostrarono fondate quando Bayram vomitò sul pavimento, suscitando disgusto tra le presenti. Sakine entrò nel panico, implorando Zeynep e le altre donne di far rimanere Bayram almeno una notte in modo che potesse prendersene cura. Questa decisione deluse profondamente Nermin, che avrebbe preferito vedere Zeynep liberata dai pesi e dai problemi che gli altri portavano nella sua vita. Zeynep uscì per parlare con Magdi e gli annunciò che Bayram sarebbe rimasto temporaneamente a casa loro, ma solo per un breve periodo. La sua curiosità la spinse a chiedere a Magdi perché aveva lasciato l'ospedale in anticipo e dove aveva trovato suo padre. Magdi mentì, dichiarando di essere stato dimesso normalmente e di aver trovato Bayram casualmente in giro, non vicino all'hotel dove aveva seguito Zeynep. Zeynep gli ringraziò sinceramente e Magdi si offrì di prendersi cura di suo padre nel caso lei non fosse disposta a farlo. Tuttavia, Zeynep rifiutò, assicurando a Magdi che lei e sua madre avrebbero trovato una soluzione. Dopo avergli augurato una pronta guarigione, Zeynep tornò in casa. Più tardi, Sakine pulì Bayram e cercò di convincerlo a riformare la sua vita e a comportarsi con rispetto verso Zeynep, sperando che potesse tornare a vivere con loro e ricevere il sostegno della figlia. La conversazione fu ascoltata da nascosto da Nermin, la quale vide confermati i suoi timori. Pensava che Sakine e Bayram sarebbero continuati a dipendere da Zeynep, non permettendole di avere la pace che meritava. In quel momento, Zeynep incrociò Nermin nel corridoio, e questa cercò di spiegarle quanto fosse fortunata ad essersi separata da Magdi, evitando di finire intrappolata in un ciclo di dipendenza come sua madre, Sakine. Nermin mette in guardia Zeynep dal gioco manipolatorio di Magdi, il quale cercava subdolamente di farle pensare di essere una cattiva figlia e, di conseguenza, una cattiva moglie. Le faceva velate accuse di egoismo e indifferenza verso gli uomini della famiglia, facendola sentire in colpa per non aver cercato suo padre durante la sua scomparsa. Zeynep già pensava di essere una cattiva figlia per non aver cercato suo padre durante tutto quel tempo. Emine la pregò di non cedere al senso di colpa, sottolineando che il senso di colpa era ingiustificato e che Zeynep aveva il diritto di difendere la vita che aveva costruito con le sue mani, il suo lavoro, la sua casa e i suoi desideri. Rimasta sola, Zeynep si abbandonò al pianto. Poco dopo, Emine sollevò anche il comportamento di Sakine. Lei era consapevole del disagio di Zeynep per la presenza di Byram e per il costante ritorno di Magdi nella sua vita. Ogni persona che Zeynep cercava di allontanare dalla sua vita, sembrava che Sakine la riportasse indietro. Sakine cercò di adottare il suo solito atteggiamento vittimistico, ma Emine non fu influenzata da questo, essendo sicura di ciò che diceva. Byram rappresentava una sciagura per la vita di Zeynep, nonostante fosse suo padre, e Emine non avrebbe lasciato che la sua migliore amica soffrisse a causa delle scelte sbagliate altrui. Soprattutto quelle di Sakine. Rimaste sole, Sakine si sfogò con Sultan. A causa di Byram, aveva perso entrambi i suoi figli e aveva deluso profondamente Zeynep. Si era conformata a diventare madre e moglie, facendo ciò che ci si aspettava da lei invece di seguire i suoi veri desideri. La sua disperazione era profonda, e non poteva fare altro che piangere. A casa Caraca, Magdi si avvicinò alla stanza di Kibrit per darle la buonanotte e la trovò intenta a studiare il violino. Curioso, le chiese come avesse ottenuto lo strumento. Kibrit rispose che era un regalo di Baris, il quale fece arrabbiare Magdi. In un accesso di rabbia, rimproverò Kibrit per aver accettato un costoso regalo da un uomo che chiaramente cercava di ingraziarsi lei per conquistare sua madre. Poi, il fatto che Kibrit avesse contattato l'avvocato fratello di Baris scatenò l'ira di Magdi. Le disse di non voler più sentire parlare di Baris in casa loro, ribadendo il fatto che lui era il padre di Kibrit e che doveva ricevere rispetto e obbedienza. Nel cuore della notte, Byram uscì dalla camera di Sakine e si intrufolò in quella di Nermin. Quest'ultima non si accorse di nulla mentre Byram cercava di rubarle dei soldi. Tuttavia, durante il tentativo, fece cadere un vaso, svegliando Nermin che urlò spaventata. Le sue urla svegliarono tutte le donne presenti in casa. E Nermin raccontò immediatamente loro cosa Byram stesse facendo. L'uomo restituì i soldi, seppur con riluttanza. Zeynep lo sgridò immediatamente, rimproverandolo per il suo comportamento vergognoso, considerando che lui era stato accolto e ospitato da loro. Byram cercò di giustificare il furto, sostenendo che non riusciva a combattere l'alcolismo e che il desiderio di bere lo spingeva a compiere questi atti vergognosi. Sakine cercò di incitare la figlia a perdonarlo e propose di farlo ricoverare, seguendo il suggerimento iniziale di Zeynep. Tuttavia, Byram la zitti brutalmente, insistendo sul fatto di non aver bisogno di andare in ospedale. Zeynep ne ebbe abbastanza e gli disse che, dal momento che rifiutava di essere aiutato, avrebbe dovuto andarsene la mattina seguente. Poi tornò in camera sua, considerando la questione chiusa. Byram, offeso e arrabbiato, iniziò a maledire Zeynep e a criticare Nermin per gli atteggiamenti della figlia, pentendosi di avergliela affidata da piccola. Quando le acque si calmarono, Sakine raggiunse la figlia in camera per scusarsi dell'atteggiamento di Byram. Zeynep le spiegò che non poteva sopportare suo padre e che la sua disperazione e l'atteggiamento di sua madre le impedivano di dormire la notte. Sakine cercò di tranquillizzarla, dicendole che ora era cambiata e poteva contrastare l'atteggiamento di suo padre e proteggerla. Zeynep le chiese quindi di prometterle di non assecondare i capricci di Byram e di non farlo tornare in casa, soprattutto perché lei doveva viaggiare per lavoro. Infatti, la notizia che Zeynep avrebbe dovuto affiancare Baris in un viaggio di lavoro in Bulgaria era ormai ufficiale. Questa notizia sconvolse Sakine, che la pregò di non partire e le disse che Magdi si sarebbe arrabbiato e che sarebbe stato giustificato, poiché viaggiare da sola con un uomo era sconveniente. Zeynep, esausta e stressata, non aveva più voglia di discutere di questo tipo di argomenti con sua madre. La mattina seguente, trovò Magdi addormentato nella sua auto di fronte a casa e lo svegliò arrabbiata, rimproverandolo per il suo comportamento. Magdi, tuttavia, aveva una buona ragione per essere lì. Spiegò che era stato chiamato da Sakine per aiutare Byram e che era lì per portarlo via. Non lo avrebbe portato in ospedale, ma a casa sua. Zeynep gli disse che non era tenuto ad occuparsi di suo padre. Ma Magdi non accettò questo discorso, sottolineando che stava rispondendo a una richiesta di aiuto da parte di Sakine e ricordando a Zeynep che aveva passato una notte in ospedale con lui nonostante non fossero più sposati. Magdi aggiunge che non può ignorare le persone che hanno fatto parte della sua famiglia, come invece ha fatto Zeynep, che sembra dimenticarsi di tutti, incluso suo padre. Sottolinea che Zeynep non ha nulla di cui incolparsi, poiché ha fatto tutto ciò che poteva per suo padre. Grazie a lui, ha anche compreso che le persone sono incapaci di cambiare e di mettere fine ai loro comportamenti negativi e violenti. Nonostante siano in disaccordo, Magdi insiste per accompagnarla al lavoro, in modo da poter discutere anche di Kibrit. Nel frattempo, Mujgan, Gemile e Nu tornano a casa e trovano Kibrit, che li informa dell'aggressione a Magdi da parte di Buran e dei danni al negozio. Le sorelle e Nu sono preoccupate, soprattutto Mujgan, che si sente responsabile della violenza di Buran. In macchina, Zeynep dice chiaramente a Magdi di smettere di appostarsi davanti a casa sua, indipendentemente dalla giustificazione. Lui non nega l'evidenza e le dice che spesso parole e azioni non combaciano. Ad esempio, Zeynep aveva proposto di non vedersi per un po', ma poi era andata da lui in ospedale. Magdi le chiede perché sia stata al suo fianco, e lei risponde che lo ha fatto per umanità, non per interesse sentimentale. Discutono poi di Kibrit. Magdi esprime il suo disappunto per il costoso regalo che Baris ha fatto a Kibrit, mentre Zeynep non vede nulla di male. Lei conclude dicendo che se Magdi vuole aiutare Bayram, lei non lo ostacolerà, ma ribadisce che non è necessario che lui se ne occupi. A casa di Zeynep, le donne cercano di fare colazione fino all'arrivo di Bayram, che è molto deluso e arrabbiato per essere stato cacciato da casa da sua figlia. Accusa apertamente Sakine di non averlo difeso. Sakine cerca di gestire la situazione con Bayram. Quando Nermin, Emine e Sultan intervengono per difendere Zeynep, Bayram le zittisce, facendo valere i suoi diritti da uomo sulle donne. Sakine continua a difendere il marito, invitando le altre a calmarsi e a tollerare l'umore di Bayram fin quando non arriverà Magdi. Sakine, di buon grado, scorta il marito dall'ex genero che lo porta via. Rimasta con le altre, Sakine crolla in un triste pianto e sconsolata confessa che il suo desiderio è sempre stato quello di rivedere la sua famiglia riunita. Ora che ha perso nuovamente Bayram, sente di non avere più niente. Sultan, Nermin ed Emine si stringono a Sakine, rassicurandola che non è sola e che tutte insieme formano una famiglia. Al lavoro, Zeynep e la sua collega ricevono i biglietti aerei per la Bulgaria e un'auto aziendale personale per potersi muovere liberamente tra casa e lavoro. Magdi porta Bayram a casa e reincontra le sue sorelle, che sono preoccupate per ciò che Buran gli ha fatto. Le sorelle accolgono Magdi, ma quando vengono informate dell'arrivo di Bayram, Mushgan in particolare non accetta la sua presenza. Mushgan non capisce perché debbano accogliere Bayram, ma Magdi ha già preso la sua decisione. Se Mushgan non è d'accordo, può anche andare a vivere altrove. Dopo la discussione, Mushgan cerca di uscire di casa per riflettere. Ma Magdi glielo impedisce, temendo che Buran possa fare del male alla sua famiglia. Nel frattempo, Nermin e Baris discutono sulle novità riguardo Ekrem. Ekrem ha fatto un'offerta molto bassa come risarcimento per i danni subiti da Nermin. Baris è speranzoso di ottenere una risoluzione della causa favorevole per Nermin. Jimmy le va a trovare Sultan e le altre e viene informata della loro prima esperienza di catering, capendo di aver perso molti soldi. Poi, si reca al negozio distrutto di Magdi e Nu, offrendo di aiutarli con i soldi che aveva risparmiato per il suo progetto aziendale. Tuttavia, Nu rifiuta l'offerta, rinnovando il suo amore e stima per Gemile. Cari spettatori, speriamo che vi siate goduti questo emozionante episodio di My Home My Destiny. Lasciateci sapere nei commenti cosa ne pensate e se avete delle teorie sul futuro dei nostri amati personaggi. Non dimenticate di mettere un like se avete apprezzato il video e di condividere con gli amici che amano questa serie. Iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e gli episodi futuri. Vi ringraziamo per il vostro continuo supporto e vi aspettiamo al prossimo appuntamento con My Home My Destiny. Ricordatevi di sognare in grande e di vivere ogni momento con passione. Alla prossima!